Il dogo argentino è un cane da caccia. Ho fatto un sondaggio su Instagram e ha vinto cane da difesa. Molte persone hanno anche votato cane da combattimento. Ed effettivamente per il suo aspetto è semplice essere ingannati. E se sei interessata a dei sondaggi sui cani che ogni tanto propongo, vai a seguirmi anche su Instagram. Questo aspetto così possente e così forte deriva infatti da una selezione che parte da un cane da combattimento. A questo originale cane da combattimento sono state aggiunte delle caratteristiche per renderlo abile alla caccia grossa. In particolare del puma e del cinghiale argentino. Quindi si è creato un cane dalle grandi capacità da cacciatore ma con una taglia grande e una forte combattività. Nella selezione per aumentarne la taglia è stato inserito l'alano. Mentre per dargli ottime capacità da cane da caccia è stato inserito il pointer. Quindi il doco argentino è di fatto un cane storicamente selezionato per la caccia e c'è chi ancora lo utilizza per questo scopo. Però dobbiamo dire per cosa è stato selezionato storicamente e in cosa è eccellente è appunto la caccia grossa. Sono sicuro che qualcuno mi scriverà Eh ma io ci faccio la difesa, è bravissimo, io ce l'ho come cane da guardia, è fenomenale. Va benissimo, per me col doco argentino potete anche andarci a tartufi. Basta che fate qualcosa insieme al vostro cane. Se però parliamo di storia, di per cosa è stato selezionato e in cosa eccelle allora parliamo di caccia grossa.